Allora lì, vengo lì, ma cosa sono quelle facce? Ma stanno impazzendo tutti, vi fate prendere dal mainstream quello fasullo, quello che raccontano i rosso-bianconeri? Stanno impazzendo, fuori le sciarpe, domani è Inter-Napoli, occasione per avvicinare di nuovo, ancora più vicina la seconda stella, ancora più vicino questo obiettivo che mi fa anche parlare come un Sasquatch. La seconda stella, obiettivo storico, un obiettivo incredibile, un obiettivo che rimane nella storia del calcio dell'Inter, la seconda squadra che farà la seconda stella, calcolando che è la prima, conosciamo la sua storia, non dico che siamo la prima squadra che fanno la seconda stella, ma quasi. Poi ci sono gli altri che fanno gli striscioni sotto le tangenziali per prenderci il culo sulla questione europea dove, voglio dire, non è che peschi una Champions così dal cilindro a caso. Ci sono situazioni in cui puoi uscire contro grandi avversari e l'atletico, vedrete, farà strada e quindi non c'è una presa per il culo per una squadra che esce ai rigori con l'atletico di Simeone, di Morata, di Griezmann, di Depay e di tutti quei calciatori come Depol che sono campioni del mondo, come Cocchi che hanno fatto la storia o gli emergenti, no? Come Samuelino e gli altri. Cioè non è un disolore. Ci sono stati momenti difficili in cui siamo usciti con delle squadre che erano inferiori, come un po' il Villareale anni fa, come è successo a volte con Lugano e il Malmò e la presa per il culo ci stava. Ma qui non c'è nessuna presa per il culo. La Champions è questa, siamo usciti, comunque se la frase nessuno l'ha detta, ma siamo usciti a testa alta, anzi anche un pochino recriminando sulla partita d'andata. Quindi domani Inter-Napoli, tra l'altro se volete ci vediamo allo stadio, ci salutiamo, ci abbracciamo forte perché, penso che qualcuno mi ha scritto su Twitter, del vostro campionato, non frega un cazzo a nessuno, facciamo una festa domenica. A quanto leggo, oggi c'era un articolo sul leader della Curva Nord, Marco, che saluto. Ciao Marco, ho visto un articolo sul Corriere, c'era una bellissima intervista e mi pare di aver letto Olio sui soci, insomma forse sull'intervista di oggi, che ci sarà una festa di tre giorni all'Idroscalo, che per me che sono milanese, Idroscalo fa parte della storia di Milano, dei milanesi e anche del mio nonno interista che mi ha trasmesso questa fede che nonostante abitasse in Cento, per lui Idroscalo era una figata, anche se in realtà è una merda, però per noi è una figata. Quindi così come le discoteche che sono arrivate poi in zona Idroscalo, così come il nostro aeroporto, e non mi rompere Frenchi, se no anche tu vai all'aeroporto e decolli insieme agli aerei. Ok? Siate orgogliosi di quello che sta per accadere, perché lo scudetto è qualcosa di storico. Non è che capita sempre, no? Vi ricordate uno striscione famoso di quando dopo tanto tempo, comunque anzi dopo tanto tempo, non riuscivamo a raggiungere lo scudetto? Io vi ricordo che l'ho da 89, io faccio sempre questo esempio, cioè io ho visto lo scudetto dell'89, ero ancora, ero appena diciottenne, ero così, diciamo che lo scudetto dopo ero già sposato e avevo figli. Cioè, 2006-2007, questo è il tempo che è passato tra uno scudetto e l'altro per la nostra generazione, quindi voglio dire, non è che lo scudetto lo trovi sotto l'albero, poi quelli erano anni in cui gli Zanza facevano gli Zanza e quindi, però comunque uno scudetto, non lo so, per quelli di Napoli è storia, per quelli di Roma quasi e per alcune squadre, e mi dispiace come Samp, Toro, Bologna o il grande Genoa che adoro, è veramente qualcosa che forse non si ripeterà mai più, quindi godetevi questo scudetto, godiamoci questo scudetto, prendiamo le bandiere, prendiamo le sciarpe, prendiamo le maglie, da domani con Napoli è primavera, ormai il clima è cambiato, possiamo divertirci, fare le sciarpate, sbandierare, cantare, riempire come sempre lo stadio, siate gasati, siate orgogliosi di quello che siamo. Noi siamo campioni d'Italia per la ventesima volta e cuciamo un'altra stella, facciamo una festa che spacchiamo tutto, minchia zio, ok? Va bene, per il resto, ripeto, dentro l'uovo di Pasqua, più o meno troveremo lo scudetto, dipende dai nostri avversari e anche da noi. Voglio che i ragazzi che sono anni, insomma, che lottano su più fronti, domani tornino in campo sapendo che noi li sosteniamo, li amiamo e che siamo orgogliosi di loro per quello che hanno fatto in tutti questi ultimi anni, da quando sono riusciti a tornare in Champions. Quindi noi siamo con loro sempre, anche quest'anno siamo il pubblico più presente in casa e in trasferta, siamo spesso, quasi sempre premiati perché facciamo coreografie meravigliose che guardano in tutto il mondo, non solo il mondo Ultras, ma le guardano ovunque. Io non so più di così che cosa dobbiamo dimostrare. Stiamo lavorando sull'opportunità di uno stadio nuovo, stiamo lavorando su una situazione economica che poi a me non frega un cazzo, i soldi non sono i miei, però comunque, no, Frenchi, adesso mi stai, vieni Frenchi. Stiamo lavorando su una situazione economica che è miglioramento. Guardiamo in campo giocare, non c'è Pelé, però comunque ci sono calciatori forti che ci invidiano e che sono attaccati a questa maglia, a questa magia, a questa magia, a questi colori, ok? Quindi dobbiamo essere orgogliosi, orgogliosissimi, anche perché gli altri vinceranno sto cazzo, sto cazzo, perché se va bene la Fiorentina può, con l'italiano, riprovare a vincere la Conference, non riprovare a vincere, scusate, riprovare ad andare a finale per vincere, ma sarà dura. Il Milan, la Roma e l'Atalanta non vinceranno l'Europa League, perché ci sono squadre oggettivamente più forti, che magari davanti all'Europa League antepongono altri risultati. Mi viene in mente il Leverkusen, di Schick, di Xabi Alonso, eccetera, ma ci sono altre squadre come il Liverpool che sicuramente molleranno l'Europa League solo se lo scudetto sarà o vinto o perso e viceversa. Altrimenti ce la metteranno tutta e non credo che Milan e Roma, a più alto mi occupo del Milan, poi della Roma mi interessa poco, anzi l'Atalanta spero che vinca l'Europa League, per il resto perché i fratelli di Bergamaschi, lo so che tra l'Inter e l'Atalanta non corre buon sangue, però d'altra parte alcune mie origini anche dal cognome sono anche lì e quindi insomma sono in quella zona e non riesco a non tifare. Per due squadre che invece sono sono acerrime nemiche dell'Inter, che sono Brescia, Brescia ma anche il Como, poi abitando qua sul lago, ma io tifo tutte le squadre lombarde, tutte! Da quelle della bassa, dalla Piacenza, dalla Cremonese, al Como, all'Ecco, a tutte le squadre, mi piacciono tutte. Il Monza, cazzo, la Brianza deve essere capitale d'Europa, ok? Perché la Brianza è la zona più produttiva e più bella del mondo, è silenzio. Ora, tornando all'Inter e alla nostra Milano, faremo feste, ci divertiremo, ci saranno momenti bellissimi che gli altri non vivranno perché si attaccheranno al cazzo, quindi suca, 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 suca! Siate orgogliosi, domani ci vediamo allo stadio e battiamo questa squadraccia, gli strappiamo lo scudetto dalla maglia a questi sconfitti, perché Napoli fa un'annata ridicola, squadra tra l'altro per me, per me il Napoli è l'unica rosa che poteva impensierire l'Inter quest'anno. Cioè il Milan è più squadra, ma il Napoli era più rosa, invece hanno deluso, vabbè. Comunque, domani ricordatevi che è un altro passo per avvicinarsi allo scudetto e gli altri invece, ripeto, nessuno vincerà la Champions, nessuno vincerà l'Europa League, della Coppa Italia non ce ne frega un cazzo, la Supercoppa l'abbiamo vinta noi e lo scudetto della Stella lo vinciamo noi. Gli altri si accontenteranno e poi vi dico un'altra cosa, dopo tre settimane di vacanza, quattro eccetera, gli europei, ok? Scarpa all'accia, all'accia scarpa. Ci sarà la nuova annata che porterà a un mondiale per il club dove qualcuno parteciperà e qualcuno no. E qualcuno piange! Poi ci sarà la Super Champions dove qualcuno parteciperà e qualcuno no. E poi ci sarà una squadra, l'Inter, che si è già assicurato due calciatori fortissimi con mezzierischi e taremi, sta facendo piani per andare a prendere attaccanti, sta lavorando sui portieri con Bento, con Di Gregorio eccetera eccetera, sta lavorando probabilmente anche sul centrale o sui centrali del futuro, ok? Abbiamo in rampa di lancio Buchanan che sarà sicuramente devastante sulla fascia, abbiamo, ripeto, siamo la tifoseria migliore di tutte, ma che cosa vuoi di più? Abbiamo una dirigenza che lavora in maniera seria, ripeto, ripeto, se il proprietario barra presidente fosse uno che caccia due soldi saremmo a livello delle top del mondo perché basta poco, basta avere un etò, un cambiasso e un Samuel, ok? Per fare uno step, che portiere c'è? Ok? Basta fare, basta avere un difensore alla Samuel, uno, un centrocampista la cambiasso, ok? O un uomo di fascia alla figo eccetera eccetera e davanti uno alla etò o alla milito, ok? Questo manca ma sono tre pezzi che se il presidente tirassi fuori la fresca spenderebbe magari 100 ne incasserebbe 200, chi più spende meno spende. Questo vorrebbe dire diventare potenzialmente con questa squadra, questa organizzazione, questa dirigenza, noi che siamo il pubblico, un tutt'uno che punta a essere veramente sul tetto del mondo, non manca tanto, ma la parte noi la stiamo facendo sempre, ripeto, la parte che manca è quella della proprietà, che cosa devo dire? Non che arriva e mette un miliardo, quegli altri, ok? Però diciamo che nonostante questo stiamo in piedi bene lo stesso e lottiamo su più fronti. Dico che, e sì perché è così ragazzi, siamo noi che vinciamo gli scudetti della Stella, siamo noi che vinciamo le cup, siamo noi che facciamo la finale di Europa League e di Champions League, siamo noi che andiamo al mondiale per club, su con l'umore, su con la vita, stanno impazzendo gli altri. Poi aggiungo, i processi, cioè noi abbiamo questo, loro hanno i processi e le indagini e delle situazioni che non sono proprio, non lo so, io ho fatto un video in cui dicevo che vincevamo lo scudetto e l'abbiamo stravinto, io ho fatto anche un video in cui dico che poi bisogna vedere cosa accade, però io ho detto che l'Inter potrebbe dominare non per cent'anni, ma per due o tre anni potrebbe dominare, potremmo vincere ogni anno lo scudetto in carrozza perché io non vedo avversari, poi d'estate può succedere di tutto, però può anche succedere che qualcuno veramente faccia una brutta fine a livello calcistico e societario, noi sicuramente no, quindi siate orgogliosi dei nostri colori, della nostra Inter e quindi ci abbracciamo domani, siate orgogliosi, stanno impazzendo, Forza Inter sempre!